al circolo sportivo sport city si stanno per affrontare il borussia boys l'imparato case con cane 16 fammelli grande rovesciata che viene fermata dal portiere calcio d'angolo il primo della partita molto bene finta di cane recupera la palla il borussia boys penso numero 9 che controlla tiro rete vantaggio del borussia boys con un buon sinistro di concludere viene fermato viene servito in mezzo tafani 2 a 0 per il borussia boys raddoppio della squadra che era in vantaggio parte l'imparato case numero 5 che tenta di tirare ma viene fermato ande nicolò palo grande azione viene fermato poi il destro di tafani fermato ancora una volta dall'ottimo portiere dell'imparato case ha un po di spazio sulla destra se la porta sul sinistro ancora il grete 2 a 1 gold numero 8 dell'imparato case imparato boys tafani destro di tafani per grande parata di imparato sul fiammelli si smarca molto bene parte con il destro parata del portiere imparato calcio d'angolo attacco sulla destra dell'imparato case che deve cercare il pareggio sotto 2 a 1 ma perde una palla incredibile si invole numero 7 matteo spagnolo 3 a 1 del borussia boys con solida quindi il doppio con un doppio vantaggio gol rete tafani 4 a 1 gran gol del numero 11 finisce quindi 4 a 1 per il borussia boys decima vittoria consecutiva per la squadra di piacentini grazie